Si è svolta questa mattina in municipio la conferenza stampa per presentare un primo bilancio dell'attività del tavolo lavoro conciliazione e salute delle donne. Consigliera, allora quali gli obiettivi che vi eravate posti rispetto a questo tavolo? Il tavolo lavoro conciliazione e salute delle donne si pone l'obiettivo di lavorare innanzitutto sull'aspetto culturale. Abbiamo visto che sono ancora pochissimi gli uomini che prendono il congedo parentale, diciamo che il lavoro di cura è sostanzialmente in capo alle donne. Di incidere quindi sul piano culturale e di incidere sui servizi, sulle imprese, perché quando si parla di conciliazione, di condivisione, inevitabilmente bisogna coinvolgere i tanti soggetti del lavoro, quindi imprese che concedano un pochino più di flessibilità, bisogna coinvolgere le famiglie, la conciliazione non è solo delle donne ma anche degli uomini, bisogna coinvolgere le parti sociali legate ai servizi e all'accesso ai servizi, quindi a nuove modalità anche di accesso ai servizi. Da un punto di vista proprio culturale, diciamo di predisposizione delle aziende, delle persone, degli uomini ad assecondare anche le esigenze che le donne si trovano ad affrontare nel quotidiano e ovviamente nell'abito lavorativo. A che punto siamo? Allora, rispetto alle aziende bisogna fare un discorso di sensibilizzazione. Noi consiglieri abbiamo affrontato tante volte casi di part-time o flessibilità di orario che viene negata. In quel versante diciamo che noi agiamo quali mediatori, quindi promuovendo l'azienda e incentivando l'azienda a concedere una flessibilità di orario. Rispetto agli uomini, devo dire che gli uomini, forse nelle giovani coppie, sono un pochino più propense. Noi facciamo, sempre come tavolo, partecipiamo ai corsi di preparazione alla nascita, dove abbiamo visto un numero più crescente sempre di papà, quindi di futuri papà che partecipano. In quell'ambito cerchiamo di incentivare, di promuovere anche la condivisione da parte dei padri. È chiaro che il lato normativo non aiuta perché il 30% della retribuzione che chiede il congedo parentale certamente non è sicuramente di supporto, soprattutto in un periodo di crisi. Però ciò che vogliamo far capire è anche che si perdono anche qualcosa dal punto di vista affettivo. Vedere crescere, comunque stare col proprio figlio o con la propria figlia, ha un valore che va al di là anche dal lato economico. E' una donna che quindi si trovasse discriminata rispetto alla possibilità anche di mantenere il proprio lavoro o di riprenderlo. Che cosa può fare? Allora, può rivolgersi all'ufficio della consigliera di parità. L'accesso all'ufficio è gratuito, quindi noi siamo indennizzate da parte dello Stato, quindi l'utente non paga nulla. Soprattutto in qualità di consigliera di parità sono un pubblico ufficiale, quindi non solo devo denunciare o ho l'obbligo di denuncia rispetto ad eventuali reati all'autorità giudiziaria, ma anche alla facoltà di far intervenire l'ispettorato del lavoro. Quindi una lavoratrice che si ritiene discriminata può rivolgersi al nostro ufficio, può venire, la ascoltiamo e poi valutiamo insieme il percorso da fare. Grazie.